Ieri in Consiglio Comunale un risultato importante nella votazione del documento di programmazione economica è l'abbassamento della TIA, tariffa di igiene ambientale. Un minimo di abbassamento solamente per le utenze domestiche, una riduzione del 5%. C'è stata quasi euforia, dopo anni e anni di aumenti, oltre il 35%, abbassiamo solamente il 5% per le utenze domestiche. Io non credo che questo possa essere data come una cosa positiva, ma secondo me è ancora molto preoccupante. Paghiamo tantissimo, gli investimenti che sono stati previsti nel piano economico e finanziario sono minimali. Rispetto al PEF dell'anno scorso, quello di quest'anno quanto meno è leggibile, riporta qualche somma. Quelli degli anni precedenti erano poco leggibili e tant'è che non consentivano di fare un consuntivo, perché laddove non ci sono gli investimenti, dove non ci sono le somme, è impossibile produrre un consuntivo. Quello di quest'anno un minimo lo riporta, ma solamente la preoccupazione è che si vanno a fare investimenti pluriennali su Carapollo prima ancora di aver acquisito la sede, prima ancora di aver acquisito i terreni. Però quei terreni dovrebbero passare al Comune, secondo un tacito accordo, uno scambio con la TEAM, con i terreni terra bianca? Guardi, questo noi lo leggiamo dagli organi di stampa, ma non ne abbiamo nessuna certezza per quanto riguarda commissioni consigliarie o quant'altro. Sinceramente io accolgo con piacere se la TEAM dovesse acquistare Carapollo, anche se però dico sempre, ripeto, che l'ubicazione di Carapollo è quasi infelice, perché la viabilità, il Comune si dovrà impegnare sia per il ponte a catena, perché c'è una limitazione del passaggio a 35 quintali, da Villa Pavone bisogna guadare un fiume che ogni volta che c'è un po' di maltempo è impossibile percorrere, altrimenti sarebbe poggiogono, ma ci immaginiamo che cosa significa. Quindi prima di pensare, di arrivare all'acquisizione del terreno, dobbiamo pensare e quantificare quanto ci costa quella sede per poi poterla rendere realmente efficiente e funzionale. Questa è un'analisi che deve fare la TEAM, che non possiamo fare noi, ma se dovessero arrivare a questa conclusione ben venga, perché almeno iniziamo a fare degli investimenti su una serie di proprietà della Teramo Ambiente e non più del Comune di Teramo.